abbiamo trovato questa grotta a ricovero come si vede la profondità era bassa qui davanti aveva un portone in legno un portone in legno che chiudeva e questo qua era un deposito magazzino di quest'area proseguendo avanti di qua come si vede questo invece era un pianolo un po più grande qui vi era sicuramente dei baraccamenti infatti la forma è fatta apposta per l'allocamento di baraccamenti in legno e se noi proseguiamo vediamo se riusciamo ad arrivare in cima al monte anche questa è quella che sale